La settimana inviteremo la stampa proprio in questa sala a ricevere una... Assessore, il legame con Rastad si rinsalda ancora di più? Sì esatto, in occasione del ventennale del gemellaggio della provincia di Rastad con la provincia di Pesaro e i vari comuni della provincia hanno deciso di organizzare un viaggio verso Rastad e per l'occasione la provincia tedesca ci ha organizzato un weekend che va dal 6 all'8 ottobre e sono previsti insomma un momento di incontro per rafforzare i nostri gemellaggi delle varie città quindi non ci siamo solo noi, ci saranno San Costanzo, i comuni di Saltare, il nuovo comune di Coli al Metauro, Mondolfo quindi sarà un ritrovo di tutti noi in Germania e per dei pomeriggi in spensieratezza all'insegna dei giochi non agonistici ma per stare insieme Poi ci sarà anche un interscambio perché oltre ad andare a noi verranno anche loro immagino Esatto, loro sono già stati per questi giochi del gemellaggio nel maggio scorso è stato un momento molto partecipato, erano più di 120 persone e questa è una tradizione che vorremmo mantenere se avremo successo speriamo di fare uno o due pullman per andare in Germania è una tradizione da mantenere un anno in Italia e un anno in Germania Grazie a tutti Grazie a tutti